Averio, ero nato per fare un attore, un talento naturale, un genio. Ci può descrivere, ci può spiegare chi è questo Latin Lover e soprattutto è un uomo che capisce le donne? Intanto non bisogna capirlo tutto perché sennò smette di essere un mistero, è un po' mistero ed è anche struggente in questo mistero che poi il mistero di ogni attore, secondo me, o di attrice, c'è una parte che rimane sempre nascosta, non capisce tutto questo fervore intorno a lui però dice facevo quello che mi chiedevano, è come se in qualche modo lui è un attore innamorato di se stesso per cui penso che bisogna lasciargli questo struggente mistero che è poi il mistero dei padri, non solo degli attori c'è il padre per le figlie ma anche per i figli è qualcosa che uno cerca di capire tutta la vita. È un film ricco di colpi di scena e non diciamo quali sono questi colpi di scena però è un film dove le donne vanno alla ricerca di un'identità. Che identità cercano? Essere finalmente se stesse, come dice Marisa Paredes, che vuol dire non fare dipendere la propria vita da un uomo in ogni caso, padre, marito, cioè di avere la sensazione che lei, Marisa Paredes dice citando in una scena bellissima, citando Eva contro Eva, dice nel film Bette Davis dice senza un lui non si è donna e dice io oggi che sono sola e anche non sto bene mi sento finalmente me stessa. Ecco la ricerca di essere se stessi e essendo se stessi forse si può vedere l'uomo veramente e nometizzarlo amarlo per quello che è e per il desiderio che ci suscita. Senta però il film è anche un omaggio al cinema italiano, al cinema degli anni 50, 60 e 70 anche se lei dice che questo Latin Lover è un frutto dell'immaginazione. Sì perché allo stesso tempo quel cinema dove io ho ambientato tutti i pezzi sono tutte citazioni, però non è che c'è un attore dei nostri grandi che può essere messo nei panni di Saverio Saverio in qualche modo è una figura immaginaria di divo in cui ci sono anche parti che potrebbe essere un divo americano, che però fa parte di quel cinema mitico appunto nostro che mi piaceva, qui mi piaceva dare un grande omaggio. Francesco Scianna, sei il mito, che effetto ti fa essere un mito? Il personaggio Saverio Crispo è stupendo perché comunque rappresenta un po' quello che in realtà dai tutti gli attori sognano una carriera così eccellente con grandi film, grandi registi seduttore, è successo con le donne quindi me lo godo. Che cosa conosci di quel cinema di una volta pieno di miti? Ma chiaramente questo cinema è il cinema che mi ha formato nel senso che quando ho scelto di fare l'attore sono andato a studiare quegli attori lì, quei registi lì e quei film quindi è come aver vissuto quello che è stato per me il pane proprio per cercare di migliorarmi come attore. Angela Finocchiaro è la sorella maggiore di queste 4, 5 o forse addirittura 6 sorelle. Che donna è Susanna? Diciamo che questa persona che è Susanna, che è tutta per bene, anzi praticamente non ha una vita nasconde addirittura un fidanzato perché la madre non lo apprezza che poi ve lo presenterò al mio fidanzato Neri Marco Re alla fine si viene a scoprire un paio di notizie che le ribaltano proprio la vita per cui questo però le darà la possibilità un po' di aprirsi e di prendere il volo da questa vita dove lei praticamente era più che altro sempre una testimone del papà di questo papà che lei ama, di questo papà bellissimo, di questo papà famoso che però praticamente la stringeva dentro un cappio mentre invece alla fine vediamo una donna che forse riuscirà a risolversi. Susanna è innamorata di Walter che è Neri Marco Re Walter sì, praticamente lavorava con questo divo del cinema faceva il montatore dei suoi film ed è il personaggio più normale, più positivo perché ha un rapporto con la sua donna da tantissimi anni ha un rapporto segreto, Angela Finocchiaro perché lei non vuole che sua mamma lo sappia non perché abbiano qualcosa da nascondere e perché comunque Walter conosceva insomma un po' di segreti del divo in questione insomma del latin lover, forse anche per questo tendeva ad allontanarlo un po' però sì, nella sua normalità è positivo perché poi gli altri hanno comunque qualcosa di mostruoso insomma qualcosa da nascondere o che sono, magari hanno degli altri interessi invece il mio fa il suo lavoro, ama la sua donna e è contento alla fine quando questa cosa può venire fuori ufficialmente. Nel film poi c'è una stupenda donna che è Virna Lisi nell'ultima sua interpretazione. Per me è veramente la perdita di una grande amica è un'attrice con cui io riuscivo molto, noi riuscivamo molto a legare e a tirare fuori tanta umanità nel lavoro però penso che lei, spero, che vedendosi sarebbe amata perché nel film fa veramente qualcosa di eccezionale anche queste risate finali in questa scena quando si ubriaca un po' in cui racconta in fondo una vita che non è la sua però che potrebbe essere la sua perché è di una grande attrice di quel periodo che in fondo ha sofferto d'amore per un uomo poi si è reso conto che era tutto sbagliato e il modo in cui ride e racconta mi sembra una prova di attrice pazzesca.